Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì che sull'Italia sarà molto instabile per la presenza di una zona di bassa pressione che insisterà sul Mediterraneo centrale ancora per alcuni giorni. In effetti vediamo le nuvole previste sull'Italia, nuvolosità abbastanza diffusa, poi come vedete non mancheranno anche delle parziali schiarite ma per tutto il giorno non solo, dovremo fare conti appunto con un po' di nuvole ma anche con precipitazioni, quindi ombrella portata di mano, andiamo a vedere le piogge appunto previste sull'Italia e come vedrete macchie azzurre le avremo un po' dappertutto, però non si tratta di una giornata di pioggia continua. Le zone dove le piogge potrebbero essere un po' più insistenti saranno le regioni meridionali, in particolare quelle del Basso Tirreno e vi devo segnalare anche un po' di neve che farà la sua comparsa sull'Appennino centro-settentrionale. Quindi in definitiva ci attendono lunedì autunnale con molta variabilità e instabilità, come vedete abbiamo indicato la possibilità di pioggia un po' in tutto il paese, le nevicate che vi dicevi interesseranno l'Appennino centro-settentrionale a quote medio-alte ma intanto continueranno a cadere anche sulle Alpi, lì a quote anche piuttosto bassine, temperature in effetti a nord contenute. Con questo è tutto ma per dettagli vista la situazione vi aspetto su trebimeteo.com Grazie a tutti.